buongiorno e bentornati al mio canale oggi realizzerà un nuovo progetto di fiori sono partita ritagliando quattro sagome come quelle che avete visto in figura ho fatto dei piccoli tagli fra i vari petali e ho tolto gli spigoli arrotondandoli con le forbici passando prima ad un lato poi ho girato la sagoma e sono andato ad eliminare gli spigoli dell'altro lato ho realizzato anche due singoli petali staccati ho dimenticato di dirvi che ho utilizzato la gomma eva da un millimetro bianco ora il problema che mi si pone è sempre quello di sfumare le rose di colore rosa o mi diventano troppo rosa o troppo bianche allora ho escogitato questo sistema ho messo su su un piattino in questo caso utilizzato comunque un foglio del colore acrilico bianco dove ho mischiato parzialmente del colore acrilico rosso vedete al centro è meno e meno sfumato quindi si vedono le chiazze di rosso e poi sul bordo è più sfumato il primo petalo che quello poi centrale insieme con i due petali singoli utilizzerò la parte quella centrale e quindi più rossa poi man mano che mi allontano dal centro utilizzerò sempre il colore più diluito e quindi meno rosa qui sto sfumando i due petali quelli singoli e quindi come vedete sto prendendo la parte centrale e sto facendo queste linee lunghe che ho fatto anche per tutti gli altri petali qui si può notare la differenza fra il primo petalo e l'ultimo vedete come il primo è più rosso il secondo è più bianco proprio perché in natura i petali quelli primi petali sono comunque molto ma molto più scuri rispetto agli ultimi questi sono l'ultima fila di petali come potete vedere sono ancora più chiari il pennello che ho usato è un pennello a punta come potete vedere da questa foto ho preso un pezzettino di carta di carta stagnola e gli ho dato questa tipica forma a goccia ho incollato lungo questa goccia quindi di carta stagnola e due petali che avevo fatto separati prima il primo e poi partendo dalla parte dove non è coperta la carta stagnola vado ad incollare anche il secondo petalo facendo spoggere leggermente al di sopra la gomma eva ho incollato questo mio il centro della mia rosa sul primo sui primi petali quelli che avevo sfumato di colore più scuro con sempre con un po di colla a caldo vado ad incollare intorno a questo centro i petali che appena incollato al centro quindi incollerò il primo poi il secondo facendolo a circa la metà dal primo esattamente come state vedendo e quindi via via tutti gli altri chiudo l'ultimo sul primo e il mio bocciolo è pronto passo le punte sul ferro caldo e le vado a piegare all'intietro ne passo una alla volta e quindi poi la piego passo le altre tre sagome sul ferro e le vado a piegare all'indietro prima ancora di posizionarle sulla mia rosa perché è più comodo vedete in questo modo sempre passando una volta e poi vado leggermente ad allargare con le mani i vari petali facendo in modo che si crei la bombatura metto un po di colla al centro della mia rosa e vado ad incollare anche la seconda fila di petali vedete parto da dove ho finito e incollo il petalo successivo a circa 3 lasciando circa tre quarti del petalo sottostante questo è il mio bocciolo con due giri di rose andrò a fare lo stesso procedimento con la terza e quarta fila questa è la mia rosa di colore rosa se il mio progetto vi è piaciuto lasciatemi un like ed iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati grazie vi aspetto al prossimo progetto